ciao ragazzi allora secondo me bisogna collegare la messa a terra nella maggior parte del degli interruttori qui non c'è la massa a terra adesso io me la sono ricavata la porto su e giustamente tutte le masse a terra vanno collegate specialmente se vi arriva sia la massa dell'inverter entrata uscita vi arriva la la massa anche del del fotovoltaico dei pannelli fotovoltaici dello scaricatore lo scaricatore va praticamente qui è inutile collegare lo scaricatore e poi non va a scaricare nella massa del palazzo questo qui adesso l'ho tirato adesso da lì sotto dove ci sono tutte le masse del dell'appartamento e l'ho tirato qui da qui lo metterò a questa scatola e perciò secondo me perché vedo che molti non lo fanno la la messa a terra va collegata voi cosa ne pensate ciao a tutti e grazie di essere in questo canale e seguiteci